questo puzza davvero tanto chissà se andrà via col sapone sono sorpresa che tu sia così calma cosa c'è? immagino che non ti preoccupi perchè stiamo correndo all'improvviso? guarda dietro di te! cosa c'è? non fermarti o ci prenderà non separarti da me forza quella cosa sta salendo sbrigati dove sono? non è possibile molto bene e senza dubbio un modo controllato dalla disperazione e dalla paura beh cosa farai adesso? la tua affabile partner non è qui adesso suicidio eh? non è comunque male sempre se hai il coraggio di saltare io non posso io non posso dobbiamo uscirle meg prendi la tua vendetta eh che cosa sia il coraggio di saltare Riguardo l'incidente di ieri Ho fatto in modo che sembrasse Un incidente di un'unità Buidon Abbiamo già segretamente preso il mega Avete già identificato le due che hanno distrutto Il cybot modello guerrilla? Li sto facendo investigare In cambio il capo non perderà il lavoro Fred ha buttato via la sua vita Le mie più sentite condoglianze Per suo figlio Condoglianze? Ma mio figlio è ancora vivo? La città È mio figlio Quella era la nave con cui Sam ha preso gli accordi Quindi questo è un addio a questo paese Ma Starò bene ovunque andrò Finché starò conteggio Capisco Per te Devi avere freddo adesso con questa acconciatura Shirley Aprilo Ti piace? No Non è da parte di papà È da parte dei forti e gentili angeli Che sono venuti in questa città perché erano preoccupati per te Questa è un fracassi Non è da parte di papà E non è da parte di papà Che è un fracassi Non è da parte di papà Partito Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.